Beh che dire ragazzi, voi ci credete nelle coincidenze? Prendo in mano da due giorni Genshin dopo che non giocavo da sei mesi portandoli in live eccetera perché sapete droppano il thriller nuovo di Natlan o Natlan, non so bene dove vada l'accento sarà una reaction diversa da quelle che abbiamo fatto negli anni scorsi perché sono molto poco al passo con la storia per quanto abbiamo fatto l'impossibile in questi due giorni per recuperare in live, anzi se siete più esperti di me, di Genshin e volete dare una mano mi raccomando seguite che in questi giorni sto recuperando quello che posso ma farò la mia classica reazione al trailer perché insomma siamo qui ho messo queste immagini semplicemente perché ero su Twitter e mi sono più avuti gli spoiler su tutti i personaggi perché seguo il profilo di Genshin e ne hanno pubblicati parecchi quindi qualcosa ho già visto, alcuni già si sapevano insomma dopo possiamo anche vedere i loro nomi ufficiali perché sono stati pubblicati tutti parto da lei perché sarà messa in ogni copertina possibile ok? ma tranquilli perché ora partiamo dall'inizio e facciamo una bella reaction a tutto il trailer con sottotitoli in italiano localizzati eh quindi siamo anche tranquilli da quel punto di vista per mettere la posa così sappiate che sto però tantissimo ma serve vediamo un po' cosa c'è ripresa ecco già atmosfera abbastanza imprevista perché qua vedo per esempio delle dei canotti quindi potrebbe essere una sorta di nave gigante oppure un molo ma credo ti sia tipo una grossa crociera potrebbe essere perché siamo in un'area portuale e anche qua non è esattamente quello che mi aspetto da Natlan lo pronuncio così magari sbaglio eh però vabbè e peso 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 vediamo vediamo ok personaggio che abbiamo già visto in un nella vecchia presentazione del vabbè in realtà non così lontana l'abbiamo vista qualche giorno fa nel trailer della 4.8 quindi ok non mi fa impazzire eh ok la palla per promuovere il torneo già stiamo capendo delle cose eh quindi potremmo essere nella classica stagione degli shonen del torneo avete presente no che c'è sempre quasi un topos di questo tipo di narrazioni e probabilmente Genshin l'ha voluta inserire perché sentiva che era il suo momento anche questa sì l'abbiamo già vista si chiama Kachina quindi questa qua era più in realtà era più carina nel nel modello 3D devo dire piuttosto che il disegno quindi mi piaceva di più là lei sì probabilmente era la più carina di quelle che abbiamo visto e ok ok quindi abituiamoci che comunque li stiamo vedendo in 2D disegnati non sarà come i modelli 3D e andiamo avanti per ora loro richiamano abbastanza quello che ti puoi aspettare dalle promesse che c'erano state fatte su questa regione quindi io da quello che sapevo un'ispirazione sia alle Hawaii zona vulcanica eccetera ma dovrebbe esserci anche molto dell'America Latina da quello che ho capito un po' come Sumerue di fatto che era unione ovviamente non solo del Medio Oriente eccetera Arabia ma anche ovviamente India un pochino no con tutta la questione dell'albero eccetera quindi c'è sempre un mix di culture più ampio di quello che ci si aspetta però vediamo che cosa vediamo che cosa porta questa storia qua e c'è il torneo appunto legato alla palla che è in mano a lei no? quindi anche qua forse richiamo al calcio Brasile non lo so sto andando veramente a ruota non tutto deve dovrà per forza avere un riscontro nel gioco io parlo poi vediamo anche perché in questo momento sono talmente fuori da Genshin che sembro quasi un estraneo che lo vedo per la prima volta non è vero c'è un sacco di ore però ho perso magari le ultime missioni che potevano darci dei pezzi su questa regione vediamo ecco questo qua ovviamente è stato paragonato a Shao a un certo punto Genshin paga lo scotto del suo stile questo bisogna dirlo nel senso che al di fuori del vestiario super curato che gli permette di avere una caratterizzazione i modelli sono talmente super base infatti mi piace molto di più un Kai Star Rail lo sapete ormai l'ho detto ormai sembrano quasi molesto nel ripeterlo e poi si creano queste situazioni qua c'è a chi va benissimo questa cosa e sarà super contento di pullare il terzo Shao del gioco per dire c'è invece chi magari ecco pretendeva un po' di più però ripeto è alla fine un circolo che in cui Genshin casca perché questo è un po' il limite di questo stile artistico che hanno scelto per il gioco e che in realtà mi piace molto come hanno evoluto nella maturazione sia di Honkai che di Zen Lese che è particolarissimo se l'avete giocato molto molto figo lo stavo giocando anch'io in questi giorni per quello che ho potuto poi ovviamente qui cioè il forte di Genshin chiaramente è la grandissima ispirazione a più culture quindi c'è sempre quel tocco sai che è comunque un open world cioè è il gioco comunque più più gustoso di tutti quelli che fanno proprio perché anche credo dal punto di vista dell'impegno e la realizzazione è quello più costoso credo e contemporaneamente anche quello che dà effettivamente più gameplay e è interessante cioè devi fare un open world ogni volta che che metti qualcosa su Genshin quindi in realtà chapeau per tutto se no sembro un hater ovviamente e vado avanti perché era uno sprologio che non vi interessava circa questo fatto interessante ma cos'è tipo un gioco a 8 bit 16 16 oddio tra 8 e 16 bit più più 16 quindi lui ha tutti questi richiami ai rombetti forse per richiamare proprio lo stile pixelato però vedete anche qui è l'assurdo che cosa c'entra con la tribalità di quello che dovrebbe rappresentare c'è sempre questo mix curioso che riescono a creare che poi ripeto io sono partito a volte con le analisi di Genshin molto con la puzza sotto il naso per poi scoprire che in realtà è stato sempre tutto molto più figo persino la regione scorsa Fontaine non mi diceva nulla all'apparenza poi in realtà hanno elaborato a parte l'esplorazione sottomarina ma in generale questo connubio di insomma civiltà sommerse e poi uno stile che non è solo quello tipico della Francia ma va a richiamare un po' anche volendo anche l'Italia ma insomma varie zone dell'Europa e hanno caratterizzato tanto poi le varie zone poi soprattutto col mondo sottomarino ovviamente quindi non voglio giudicare troppo presto insomma da un trailer però faccio notare insomma le mie le mie proplessità al riguardo però solitamente è figo dico questo cioè magari fa strano però voglio dare fiducia nel dire comunque ci abitueremo e sarà facile da digerire questa cosa qui sono va ah ok si è censurato beh 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 attenzione verso i contenuti per adulti per carità è molto carino è molto carino non c'è nulla a dire passa la palla attenzione unghie smaltate forse la mia prefe forse la mia prefe vabbè non ne ho visto ancora tutto ma potrebbe essere la mia preferita che bellina che è questa mi piace un sacco tanto arrabbiatissima guardate anche la curioso qua no un colore dello smalto diverso sul dito medio come mai tucani oh ok dia potenziata ovviamente codona da pantera o da tigre vabbè qui hanno proprio qua è stato un all-in da parte loro non è non pensate male non è la mia cosa preferita vedere queste esagerazioni preferisco molto di più quelle che abbiamo visto due secondi fa però vabbè sappiamo insomma ha un mercato questa skin diciamo così però vedete si torna un po' dia un po' te la ricorda secondo me sono un po' arrivati alla frutta non ho dubbi che la prossima regione insomma schneznaia sarà molto figa secondo me lì si sono tenuti tutto ricordiamoci che comunque questa questa regione parte un po' sfigata perché è veramente la il mezzo tra una bellissima regione che è stata Fontaine e la grande attesa che c'è del pubblico per l'ultima che è stata pompata fin dall'inizio del gioco quindi soffrirà un po' il peso delle aspettative ma partendo quasi da figlia della serva in realtà potrà stupirci non cose che vi interessano ad analizzare se non che penso che ad alcuni di voi piace già lo so se esistesse una tier list fatta da ognuno che commenta sto video qualcuno la mette in prima sicuro non sono quella persona preferisco molto di più la tipa di prima era molto più interessante sì proprio anche l'atteggiamento ciao è di nuovo quel periodo dell'anno quindi è un torneo annuale molto bene per ottenere il mera mera nomi di Ace ovviamente no però sai c'è il fuoco attenzione Bloodborne beh anche qua no uno dice subito eh ma è Chlorind sì però è diversa insomma stanno facendo fatica la scusate forse ho ho doggiato una cosa importante perché non mi sono soffermato su questo personaggio o personaggia non so se è maschio o femmina penso sia femmina è la la nanetta o il nanetto credo sia femmina ma non lo so magari mi sbaglio questa era stata presentata già dall'inizio primissimi trailer di Genshin insomma c'è sempre un personaggio per ragione che è stato presentato dagli inizi questo e questo qua però non credo sia molto importante vabbè caruccio per carità a me non piaceva infatti non mi ha mai colpito però vedete qui torniamo un po' al concetto della tribalità collane fatte quasi con i denti di animale o mostro piume maschera quasi da rito tribale appunto con il teschio di un animale insomma e le corna pure qua ci siamo con quello che mi immaginavo ok è certo che non è facile perché devi comunque creare qualcosa che sia un po' diverso dal selvaggio che abbiamo visto invece a Sumeru non è così semplice perché anche lì anche a Sumeru ovviamente mi sono dimenticato c'era anche l'ispirazione poi della foresta amazzonica eccetera eccetera quindi non è semplice poi coniugare tutte queste cose quando le ispirazioni non sono monodimensionali ed è bello ovviamente lei è molto bella per quanto sì ok no tra virgolette abbiamo già visto un personaggio simile ci sta unghie molto affilate sì sì la palla fa riconoscere a tutti la presenza del torneo quindi è una sorta di convocazione che più che come annuncio si fa come palla passata poi magari nel gioco reale non funzionerà così perché la vedo dura che se passano una palla ecco 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 guarda qua 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 è strano forte qua io capisco soprattutto sulle architetture così rigide fatte in questo modo che c'è un po' un'ispirazione alla tradizione precolombiana un po' si può vedere non dico di no assolutamente quindi la ricerca un po' dello stile azteco maya inca eccetera eccetera qui si vede abbastanza c'è c'è quella volontà interessante anche montagne gigantesche tecnicamente pitturate e questa è l'arena probabilmente del torneo stesso in cui arde questa sorta di fuoco che sarà importantissimo per la lore ma io ovviamente essendo riapprodato da poco su Genshin non ne so moltissimo se non che chiaramente Natalan l'associo alle fiamme quindi assolutamente ci sarà ci sarà qualcosa di importante dietro questo si si guardate guardate le forme sembra addirittura qualcosa di uscito quasi da da League of Legends o si è molto League of Legends devo dire però no queste queste forme di questo tipo richiamano ovviamente proprio le civiltà precolombiane anche il fuoco volendo ecco e poi qua questa cosa ti stunna perché tecnicamente l'Harkon stiamo vedendo in questo momento e la la cosa particolare è che uno magari si poteva aspettare una sorta di capa tribù di qualche tipo è una biker dei tempi nostri con il giubbotto in pelle cioè è molto strano ecco questo è uno dei personaggi che sembra proprio più fuori dall'immaginario di Genshin Impact e lo diciamo sempre perché anche Fontaine era bizzarra rispetto a quello che abbiamo visto però qui è molto molto moderno cioè non mi vengono in mente dei personaggi che abbiano un vestito in pelle su Genshin proprio fatto così particolarissima però è figa ovviamente non sono assolutamente deluso da lei cioè mi stunna rispetto al contesto che le hanno costruito intorno è probabile che ci sia una spiegazione ma ok vediamo ciuffetto pure così molto bello colori anche forse del fuoco della fenice no l'occhio quasi come fosse un sole c'è una ricerca però vedete anche qua cioè è molto strana non ci dice di cos'è un torneo un torneo di combattimento eh sì beh è una nazione di guerra quindi sì solo i vincitori sono benvenuti sul campo di battaglia il campione vincerà tutto quindi c'è una sorta di torneo preselettivo per poi fare una sorta di battle royale finale ok molto bellina lei ripeto molto fuori contesto per quello che mi aspetto ma poi sono molto bravi a rendertelo credibile nel gioco ora stiamo vedendo delle art capirà andiamo avanti il campione vincerà tutto cioè quindi quindi questi parteciperanno al torneo potremmo pensare tutti pure la pantera lei è carinissima eccoci qua allora lo sapevamo no? insomma questo? questa? questo è un tizio la fenice potrebbe essere lei considerando il ciuffetto eh la chiamo fenice l'uccello rosso però va a fuoco capitano ovviamente lo sapevate cioè se questa cosa la sapevo anch'io quindi sarà detto veramente da tanto tempo forse lo dicevano in una missione di di fontaine si diceva che capitano aveva tipo le truppe schierate qui perché questa è una nazione di guerra e c'è casino ora chi ne sa di più mi ammazza però era una roba del genere avevano detto in un dialogo ora mi perdonerete ma me lo ricordo da l'anno scorso lui non è tra i miei fatui preferiti assolutamente vi dico questa verità non che ve ne debba fregare qualcosa e tra l'altro c'è un meme interno al canale per cui lui parla solo cioè lui non ha una voce ha semplicemente l'effetto delle bagnarole sui sui videogiochi o al monopoli che quando giocava al monopoli sul telefono faceva solo il suono della barchetta ecco io mi immagino lui così non parla fa solo il suono della barchetta o dei gabbiani al massimo lui parla come il suono dei moli e basta non avrà un doppiatore ufficiale vero? no in realtà ce l'avrà lo sappiamo perché ha parlato nel primissimo trailer in cui è stato presentato comunque attenzione perché lei qui fa forse presupporre che c'è una confidenza tra loro due vediamo un attimo come mai ok viene così invitato a combattere io credo che non si rifiuterà anche perché il premio lui interessa qualunque questo sia ma comunque ecco ci ho quasi preso che non parla mai vabbè io qui ci avrei messo tipo una una campanella di una barca ma vabbè l'or l'interno dell'arena c'è la sotto la colonna di fuoco intendono e il tipo di fianco a lui non ne ho idea ovviamente di fianco a capitano che abbiamo visto lei lei ci sta la musica è stupenda è un criminale stoppare ogni due secondi come faccio io è qui è boh il sacro fuoco è ora di riaccendere il fuoco che c'è in voi sono forse delle piccole anime che ruotano attorno a un fuoco neanche la più piccola scintilla passerà inosservata hai ripreso tutto eccole sono le fiamme che abbiamo visto prima no? con i simbolini che ruotavano si sono che è successo? si sono tipo separati sono sti simboli che formavano un uno insomma un fuoco unico si separano e creano questi sei simboli non so assolutamente che dire c'è qua forse qualcosa c'era già è molto cryptic è molto cryptico rispetto a quello di Fontaine il primo capivamo tantissimo del di Fontaine da quel trailer che ci avevano fatto vedere qua sto facendo fatica a parte il fatto che c'è il torneo e quello che sappiamo già di Atlan 1,2,3,4,5,6 neanche disposte perfettamente a cerchio è quasi a piramide simboli che non so assolutamente decifrare ciò che gli occhi contemplano sarà il nostro destino sarà la riminescenza dell'Harkon e quindi lei è una subentrata in carica mi viene quasi da fare un rapporto Zong Li Ningguang ok per capirci sembra quasi una situazione di questo tipo poi boh però non sarebbe la prima volta che sto Genshin vediamo un'eredità di un potere che sia determinata da cloni fittizi o meno comunque qualcosa che si passa che esistano ex Archon insomma si sa ok quindi c'è che lei lo sia lo do lo do strape scontato troppo troppo presente troppo centrale è il selling point chiaramente questa ci uscirà non subito e e l'Harkon cioè o comunque quella che vale come Archon poi magari c'è anche qua ci sarà un sotterfugio e capiremo però voglio che allora è molto interessante la frase un attimo ricostruiamola è gli occhi contemplano quello che sarà il nostro destino ma chiudili e senti no com'è percepisce è quasi come un invito cioè l'occhio del destino che vede oltre chiudilo e assapora goditi questo momento qua totalmente incomprensibile cosa voglia dire dal punto di vista del war building questa cosa qui interessante così come come simbologia e significato ovviamente no poiché forgeremo il destino con il nostro stesso sangue quindi ok ok che sarà ovviamente credo dipendente dal torneo eh allora volevo magari qualche qualche puntina in più dal punto di vista della trama però ripeto mi rimando a voi nei commenti che sicuramente avete giocato ogni missione tipo mi dite non capisci niente perché sicuro che se seguivi la sub quest capivi tutto ok quindi rinunzio non è non è il mio menu preferito vi dico la verità nel senso che l'arcom mi piace molto ve l'ho già ribadito il fatui insomma avversario comunque antagonista di questo antagonista vabbè avete capito sempre insomma relativamente a quanto possono essere la su genshin loro non è tra quelli che mi interessava di più ero molto più interessato ad arlecchino ovviamente nel vecchio nel vecchio nel vecchio corso della trama e poi vabbè anche dottore mi piaceva di più scaramosce il mio personaggio preferito quindi ok però vedremo cioè comunque non è che si può esprimere non lo conosciamo di fatto no parlavo di design quindi qua ok non mi ispira ma e come sempre c'è tanta varietà perché vedete siamo passati da questa parte qui che in effetti ha una certa coerenza con questa sorta di ricerca di uno stile tribale lei mi piace moltissimo e poi abbiamo cacciatrici questa molto animale vediamo non lo so io con tutto il bene che voglia a genshin rimango sempre stupidissimo dai design di onkai non ce n'è uno che non mi piace e mi dispiace non avere tempo di giocarci perché ogni volta che presentano un personaggio a parte che mi sembra un gioco molto più maturo quindi forse più nelle mie corde ma qui è tutto non brutto ovviamente però insomma non è proprio la mia risonanza ecco nonostante mi piaccia ovviamente e il tipo di gameplay di genshin è ovviamente l'esplorazione eccetera quello più gustoso lo ripeto e lo ribadisco almeno per me molto particolare ragazzi vedremo 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 vi posso far vedere i nomi dei personaggi perché li hanno pubblicati su twitter quindi andiamo a vederli allora guardate qua allora intanto vabbè sto col mio profilo se vi va seguitemi abbiamo Ororon lui il nostro beh in realtà lui non è quindi con i cioè stava a fianco a capitano forse una sorta di alleanza non saprei però molto figo mi sarebbe piaciuto vederlo meglio ma ma wika ma wika ok che non è il nome dell'arcon che sappiamo giusto se non sbaglio perché ok e quindi in realtà secondo me stiamo andando giusti con l'interpretazione chaska top jansan ok non non so ripeto se un maschio è una femmina aspetta katrina eh però non vuol dire nulla solitamente sui personaggi così piccolini silonen citlali ok mi piace tantissimo lei oh beh oddio allora non credo sia un personaggio separato potrebbe essere come topaz e numbi credo insomma spero spero per loro e kinic o kinic kinic kacina esatto quella che abbiamo visto nella nella rotella non è la rotella è il la drill come si traduce la l'escavatrice ecco e mualani se dovessimo fare una tier lui comunque un po' rivalutato lei la mia top tier l'arcom mi piace molto lei non troppo no molto bella e questo secondo me non ce l'hanno zoomata abbastanza avrei voluto qualcosa un pochino più più chiaro ragazzi questo era il trailer di natlan un commento che spero verrà corroborato dai vostri perché ne so ormai troppo poco e vi ripeto sono in questo momento il recupero sul sito viola non so neanche quando esce questa roba cioè quando esce natlan boh non lo sappiamo e ci ho detto vi ringrazio e ci vediamo a un prossimo video